L'agricoltura dell'Emilia-Romagna costituisce un modello di elevata integrazione tra il sapere scientifico e la sua applicazione pratica alla produzione, coniugando la ricerca con la grande tradizione agroalimentare del territorio. Intervenire per stimolare la creazione di idee ed innovazioni per trasferirle al mondo agricolo e alle imprese. Ecco il ruolo propositivo della regione Emilia-Romagna. La ricerca applicata all'agricoltura, storicamente presente in Emilia-Romagna, è un esempio di come difendere la qualità e la specificità di tutto il sistema agroalimentare regionale di fronte alla complessità del nostro tempo, vale a dire con una spinta all'innovazione che non si dimentichi dei valori del passato, della tradizione. Perché in fondo, cos'è la tradizione se non un'innovazione riuscita, cioè un fenomeno di cultura materiale in continuo movimento, mai fermo, intriso di usi, culture e abitudini delle persone. In Emilia-Romagna abbiamo promosso e finanziato la ricerca in agricoltura, favorendo l'incontro tra le esigenze delle imprese agricole e i più qualificati centri di ricerca del nostro territorio. È questo il senso del sistema della ricerca, uno strumento efficace che ci ha permesso di realizzare centinaia di progetti nei settori della produzione vegetale, della produzione zootecnica, dell'ambiente e dei servizi alle imprese. I risultati? Il mantenimento della competitività del sistema delle imprese agricole regionali, attraverso la riduzione dei costi e l'aumento del valore, grazie all'aumento dei quozienti di innovazioni di processo e di prodotto. Ed è proprio a favore di un'innovazione diffusa che le nostre politiche agricole si pongono per garantire alti standard di qualità e sicurezza ai prodotti agroalimentari, per sviluppare una maggiore sostenibilità ambientale e per fornire agli operatori strumenti adeguati ad affrontare con più serenità le nuove sfide del mercato. Perché siamo convinti che sia soprattutto nell'innovazione, che l'agricoltura oggi possa trovare nuova limpa vitale. Tutto quello che è stato prodotto dalla ricerca agricola negli ultimi dieci anni è ora raccolto in un cd interattivo e una pubblicazione che racchiudono e raccontano il patrimonio delle attività svolte. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS